Allora io il primo Io il secondo Sì, il terzo e io il quarto Vai, si va al computer Io Ok Giuro ragazzi anzichè port avevo letto fort Fort This is fort Lui verranno Ah io sempre il secondo Non è cambiato Marco ci stai già preoccupando, stai calmo Stai già ansiando E verranno in tanti Che cazzo Chiudete quelle porte Chiudetele dai chiudetele Vai 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 Chiudi Vai Lasciatela quella parte Venite qua Vai ci sono Siete tutti Come è tesa Spallina meno due Usciamo dall'altra parte dopo guagno Ti prendo la mezza arma Oh ci siete Sì sì Io ci sono Il mio è uno Il primo è cinque Secondo nove Poi si spareranno dopo Stanno sparando a tutte le porte Non c'è una raga Macchina dopo? Sì immediatamente raga Da dove usciamo? Come i maiali verso la macchina Ah frontale Sì Andiamo 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 Posso dire che stai mistici Via 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 Madonna fammi guidare a me Vai vai veloce Parti 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 Levatili qua Parti Vai vai guidatemi Sinistra Marco Marco fammi guidare a me Marco scendi scendi Fammi guidare a me Vai guidare a lui Marco Mettete il ping Siete mistici Marco non soffermi Attenzione ragazzi Sì Sei teso Sei teso Marco Sono stato impeccato Bravo Bravo Però ho una pistolina Anche io E non ho corazze Allora raga noi ora dobbiamo scendere Prendere armi prima Allora eh Prima di tutto arriviamo lì alle scale della metropolitana Ascoltatemi bene E andiamo a sinistra Cerchiamo armi E priva di entrare nella porta Bonifichiamo la stanza Entriamo Puliamo bene Sgrassatore Chant'Eclair Stanno fermi negli angoli a camperare Che arrivi lo stronzo ad attivare E poi ti ammazzano Se avete granate 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 stordenti Flashbang Tirate tutto quello che avete Anche granate Tutte le granate Marco hai capito? Sì Allora sinistra ora Ehi Va bene va bene E lì faccio una cazzo E c'ha granate stordenti va Bene Attenzione ragazzi Aspetta vittorio Aspetta vittorio No Pulito? Ok perfetto Il filo in discesa Continua a non avere un'arma Chiudete le porte? Chiudete tutte le porte? Venite dal lato nostro ragazzi C'ho l'arma C'ho l'arma Tenai di entrare Fatemi accertare a me Posso dire che siete ancora più mistici Un attimo Mi sa che è lui Vai No 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 Uscite 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 E l'altro? Fatemi vedere E l'altro? Io miro le scale Miro le scale Miro le scale Miro le scale io Marco dove stai mirando tu? Le scale Ok Eccolo Vediamolo E' lui E' lui E' lui Allora ragazzi specialista ma lo prendo sicuramente io E' zi Il demonio si prende il juggernaut Demonio il juggernaut Si perchè lui è bravo E' bravo Se li coprite si Se li coprite si Se li coprite si Ehi Peroni non prende le specialista E neanche lo andiamo alzato Zizzu lo vuoi prendere tu il juggernaut? Lo hai se per me non c'è problema eh Nooo Non lo so ragazzo Dove sta lo specialista? Qua sta lo specialista Qua 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 ho fingato Grazie Delle equipaggiamento Grado specialista Vabbè Oh Ci sento tutta la mica Qua qua sono un'altra mini nave Se hai preso i bravi Non vedo il juggernaut Non ho pingato Ah si dall'altra parte qui Eh? Possiamo spazzolare? Avete spazzolato tutto? Raga una cortesia Vi chiedo solo di capire qual è il treno da prendere Perché quello non l'ho capito Un po' di secondo E' quello senza le cose dentro Il Wavie avanzato Le avete tutti e due Io ce l'ho No io ho bombardamento raga Eh no se Wavie avanzato Io ce l'ho uno Chi ha l'altro? Io non ce l'ho Io non ce l'ho Ce l'ha forse una sfiga Ne ha dato solo uno Certo Perché uno ci serve per lanciare il juggernaut Vai Zizzu vai Vai dentro il treno Andate tutti dentro il treno giusto? Aspetta una vera giusto Quello vuoto Quello vuoto Questo qua E' perché l'altro è pieno Scusate No ragazzi va dai il Wavie Eh vabbè dai non importa Ecco io dicevo che ce n'erano due L'altro perché è pieno scusate Fate capire Ragazzi Attenzione Asper Marco poi dopo te lo spieghi a me Posso tirare un bombardamento a cazzo Attenzione ragazzi attenzione Ragazzi una cortesia Io andrei a prendere l'elicottero Ci serve questa macchina Ci serve questa macchina Io andrei a prendere l'elicottero L'equipaggiamento devo prendere L'equipaggiamento devo prendere Tiratelo il Wavie avanzato Vediamo se lo possiamo tirare qua il juggernaut Ragazzi prendiamo la Fermi tutti 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 E' non ti bloccare E' non ti bloccare Da sopra le panchine Da sopra le panchine Da sopra le panchine A destra a destra Dove devi andare Zico Carello di demonio Carello demonio Hai in fondo la mappa francesco Eh eh Dai raga fatemelo prendere il juggernaut C'ho voglia E' vero E lo vuoi tu? Non lo so Non ho capito Non ho capito Vittorio Come la vuole giocare Ma io sto parlando in ottica Di vincere Quale andiamo raga? Questo carello qui? Aspettate Intanto tiro Wavie Vediamo se c'è qualcuno Ah è chiuso Tiro Wavie ragazzi Chi se ne fotte? Vai lo lancio dai Vai vai Lo vuoi prendere tu? Dai dai fammelo provare Dai ragazzi Io non l'ho provata ancora Ti prende Forla sentessi Però magari non ci va prima Forla sentessi La te la do io Te la droppo io ti è No 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 Dropa tutto Dropa tutto Vai prendi il juggernaut Un attimo Un attimo Un attimo Ragazzi Equipaggiamento Prendi specialista Prendi specialista Tu devi prenderlo Demo Ah io perché? Perché Zizio mi cazzo lo può prendere? Ma lo prendo io Io ce l'ho Io ce l'ho Affermati Mi servono soldi Si si un giorno Puoi avere il kit Eh lo so Mi datemi le tre Demonio Tieni Però io non ho il kit di autorianimazione Eh non fai niente Dai No fagli dare le autorianimazioni E la demonio E' un lancio a cui faccio avvento in arrivo Allora hanno lanciato il bombardamento lì eh Demonio tu prenditi il cecchino mi raccomando Cecchino Eh si perché devi aiutare con i cecchini Ragazzi sparano Vedi? Vedi perché è cecchino No mi sfondano qua Ce ne dobbiamo andare di qua Devo andare? Non gli faccio niente io ragazzi con le armi No da lontano no Aspettate un attimo Vittorio come si ricaricano Un battamento lanciato Come si ricaricano i colpi Prendiamo la macchina raga Come si ricaricano i colpi Quadrato Forza forza andiamocene Andiamo fuori mappa Ce la facciamo un'altra volta o no? Copriamo il juggernaut Copriamo il juggernaut Prendi la macchina Guida tu vivino Io posso entrare in macchina o devo stare sopra? Si si Certo che puoi entrare Vai 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 Certo che puoi entrare Forza Vai 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 Andiamocene in casa Andiamocene in casa In casa Centrale Dobbiamo andare qua? Ci stanno inseguendo? Si Va bene lì Dov'è? Dobbiamo andare in casa Il juggernaut Il campo aperto Non deve assolutamente stare Non riesco a sparare quelli che ci inseguono raga Non vi preoccupate voi di quelli che ci inseguono Andiamo fuori tu No ho detto solo che non riesco a spararli No io non mi riesco a girare Vivi infilati anche i vigili del fuoco per il momento Polizia dove vuoi? Basta che ci infiliamo da una parte Eh anche polizia non sarebbe manca Qua è la carta che ti ha disegnato? Qua è la carta che ti ha disegnato? Qua è la carta che ti ha disegnato? Eh no ho paura che ci fanno scoprire Non siamo troppo ingordi raga Non siamo troppo ingordi per piacere Le vogliamo mandare a piedi raga Vogliamo mandare a piedi? No 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 Le vele? Le vele? Le vele? Le vele? Una casa Una casa comunque Occhio che da Superstall sparano Da Superstall sparano dall'arancione Ragazzi mi rendete il pinguolo migliore Qua devi andare qua Al viola Dai Al viola vai al viola Anche al verde Scendiamo ragazzi Basta scendiamo Deciso io Scendiamo Scendiamo A me saranno tolti Scusi eh Ma quando sta macchamana è Ma davvero che amica Pronto ricognizione pronto Ma dobbiamo stare qua dentro Ok quindi se ci vogliono pushare Devono pushare col juggernaut dentro Perché è in campo aperto È troppo semplice per i cecchini Andassero a fare in culo Giusto Beh e le munizioni? Alla polizia Un'altra cosa che devo dire Devo aggiungere per Zizu Sì Se atterrate qualcuno Fatelo confermare a Zizu Che si recupera la vita Sì Ok ok chiaro chiaro Ah te li pingo Certo certo Tu poi vai in disfondamento Zizu ovviamente Ok Ma ragazzi non rompiamo vetri Sì almeno quello Che almeno Eh ma io c'ho comunque pochissimi colpi Sei andata a caricare a polizia Marco Sì 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 sono andato Però non so Ok Sposte insomma Ok E mettiti in un punto Dove puoi subito rientrare Perché tu sei lento Col bombardamento Ok Ah chiedete la porta Ragazzi Taglio Vogli diamo In casa Kujagen Outnage Ben Pushati Avete colpi per me Marco io ho dato tutto Non ho più nulla Io voglio capire Zizu se ti do una piazza Tu te la puoi rimettere Aspetta Ah sì Vedi? Sopra o giù? Dove? Non puoi usare questo oggetto come Juggernaut Ok ok Beh già mi spostavo Ci dobbiamo muovere raga Dove avevamo detto al viola Dai A piedi? A piedi a piedi Perché avessi retato quella ricognizione? Boh l'ho attivata Lui devo andare solo a ricaricare a polizia e virali Perché non mi fa sentire la musica che io ho chiesto di attivare? La musica Sì il Juggernaut c'è la musica metal Mentre che stai dentro Perché ti devi distrarre? A me piace Mi casa Marco Dai 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 portaci alla vittoria Portaci alla vittoria Mo si che mi piace stare avanti alla fila Siete sicuri del viola? Sì? E' in safe francese E' apertissimo quella carta eh Sì ma non pushano se c'è il Juggernaut C'è la scala pure Marco Ah e mettiamoci sopra al solito posto Sulle travi Ehm Fingate per Zizu eh Qua c'è un altro trofi Io ne ho uno Prendi Io c'ho cassa di corazze Ne ho trovati due adesso Tu cosa hai di protezione? Lo lascia la campo No io c'ho sac Mi sa protezione Cassa di protezione No non questo Zizu andiamo all'altro L'altro 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 il 3 Zizu tu le puoi salire le scale? Sì sì Domanda? Anche se io mi metterei proprio qua dentro Wanyu No 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 Non abbiamo una maschera ragazzi Io non ce l'ho Io ce l'ho Ma ce ne abbiano i soldi in caso servano Ce li hai? Puoi saltare Zizu sulla trave? Sì Sì Addirittura sulla trave mi devo mettere col Juggernaut Certo Metti che uno vuole entrare con lanciagranate e ucciderti Vabbè io e Marco rimaniamo qua dai Ma no ragazzi io direi il contrario cioè di far mettere loro sulla trave Vivi Qua c'è una piastra comunque Oh posso usare tu? Torazza qui Questa pochissimi la sanno ragazzi Questo è vero Uabbi nemico in volo Abbassati Zizu Tutti sulla trave? La stessa la trave opposta a quella di Vivino Marco E sto sto No la sei troppo in vista Dodo l'altra volta lo fecero sono sano Vieni da qua Salite su quell'altra grande bianca bianchiccia Ok Andiamo sali tu Sono già salito amico mio No sull'altra su quell'altra ancora Più laterale Ok Mettiti a destra e tu speroni a sinistra Sinistra E abbassa E abbassa così E abbassa Non ci preoccupare Devi vedere quelli che ci entrano dalla porta Che è questa qua Tu devi vedere quella porta al me No non qua la spero Girati Questa qua dove ti metto il pinguo Ah ecco si la sento la musica è bassissima perché avevo abbassato il volume ok Tu zizu invece non sei la scriumano Eh si infatti Ah abbiamo due kit quante maschere abbiamo Io c'ho maschera Ma se invece non ci mettiamo nell'angolo e sto io davanti ragazzi No eh No Ma sapete se il juggernaut ha la maschera anti gas incorporata No adesso non penso però Ragazzi Il juggernaut da solo è una merda ve lo posso garantire Quindi vediamo di dare buona copertura E cercare di non stare nei campi aperti Perché io prima sono crepato Perché eravamo in campo aperto e mi cechinavano dappertutto Sì da lontano è perfettamente inutile Eh non posso il juggernaut poi è lento Non vede Sì ma c'è che quella partita che avevo vinto con te con il juggernaut Quello abbiamo fatto un miracolo eh Avevo fatto un miracolo Ah ah macchina macchina Ti ricordi come cazzo ci sta? Arriva la macchina Vino tu spari con l'american S'entra uno qua vicino? Sì sono sceso Sono un coglione Oh c'è una maschera raid Andiamocene ragazzi Altra macchina Altra macchina Calma aspetta Io me ne andrei Me ne andrei ai bunker Eh raga dobbiamo anticipare i tempi ad andare al bunker e chiuderci la Sì sì bunker bunker mettete un ping per favore Cosa c'è? Ok vai Ok vai 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 Vi ricordo che stavano due macchinine Fermi che hanno preso la macchina Ha riuscito io con te Arriva macchina arriva macchina ragazzi attenzione No non sta arrivando da noi Andiamo a destra lì di come stiamo? Eccola la macchina Veicolo nemico Vieni sotto il muro No Gigi non entrare attraverso le cose Sono in giro Ok Sono andorato Ma però forse di ragione con il Juggernaut è meglio entrare e sparare da vicino All'interno del muro Dai forza ragazzi Possiamo andare anche qua dentro raga Chiudatevi di me Venite qua dentro Vai 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 Mi piace quel palazzo Sì sì è buono è buono Non il bunker Non il bunker Però tu sai che lì non saremo in safe Ci dobbiamo poi spostare di nuovo Sì? Non importa ma tanto voglio dire Prendiamoci il centro della safe Sì andiamo al centro Sì andiamo al centro Andiamo Allora andiamo Aspettate ragazzi facciamo così fermi tutti dai Temporeggiamo qua un altro po' Siamo comunque a bordo safe Dai siamo all'interno Temporeggiamo un altro po' Non voglio buttarmi subito in campo aperto Però è sbagliato Era per farli scannare un po' capito Vi tolgo io in campo aperto Sono lentissimo Sono obiettivamente lentissimo Deve stare il più possibile riparato per tutto il tempo della Un nemico qua Un movimento Ma è perfettamente inutile da lontano ragazzi Giuseppe fatti dentro Marco c'è colpi infiniti A quel punto è meglio spararli Marco spostati rispetto a Zizi Che almeno lui può sparare Spostati non mettere la porta Posso ti cecchino? No no sta fangendo dentro Nemici con il fondo Nemici con il fondo Nemici con il fondo Nemico mancato Al bunker sa va già gente raga Noi che facciamo stiamo dentro o fuori? Sta nelle scale Marco le scale Ok ok Niente qua sotto Qua stanno crossando eh No non così sotto Spero ognuno resta con Zizi Spero resta con Zizi Bravo Conferma conferma L'ho confermato già Bene allora ti sei rimesso la vita Ma non tutta la vita Un pezzettino di vita ti da Abbiamo? O no? Aspetta Eh raga mo' tocca andare Che dobbiamo fare? Ebbiamo Vai Tiro l'abbia avanzato tu vuoi Eh certo Vai lo tiro Eccoli ragazzi Mi stavo sparando Mi stavo sparando Mi stavo sparando Mi stavo sparando Che cazzo state Eh ce n'è uno lì nel gas E fa lo tiro Zizi per favore Lo sto cercando Lo sto cercando Sto aspettando che esca Confermelo 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 Mi faccio quelli in campo aperto raga Cosa che viene dal gas ragazzi C'è duro ha uno tutto attivito Già Ucciso Ucciso Ha già crossato Marco Ucciso Sono là Cechino la casetta Rianimati Nooo Bombardamento Complicatissimo Complicato si è il campo aperto Eccolo 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 uno Ha staccagrappolo Craccato Cosa c'è il titolo Staccagrappolo Cazzo ma presa Vai ucciso Infermonato Copritemi raga Copritemi Sto ricaricando Lo fermano Salete Salete Salite Qua ragazzi Mi sono una mano Ok Buona 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 3 contro 8 3 contro 6 3 contro 5 Ragazzi chiudiamo Qua Hai munizioni tu demonio Tirala No sono protezioni Oh mi sparano Divino dove sta sparando Zizu E dove lo stanno sparando No Sto sparando io In questa direzione Ovest Ovest Vivino Ovest Movimento Sono ancora 5 Sono ancora 5 Che palle Ragazzi sono 6 team Sono tutti nell'hungar Stanno Quindi sono tutti da 1 raga State attenti Uno qua Movimento È morto 1 Ragazzi 3 contro 3 E sono 3 team da 1 raga calmi 3 team da 1 Uno qua Eeeh Traccato Quello dietro Che dmina ha fatto Ucciso 3 contro 2 3 contro 2 1 1 3 1 1 Zitto adesso spero Ehi Vai ucciso un altro Tra l'ultimo 3 contro 1 Sarà nell'hangar raga È l'unica soluzione Aspettiamo No aspetta aspettiamo Ehi raga non guardate tutti in un punto Non fate i coglioni Giuse state riparato tu Ci sono Ci abbiamo il jugger La tua new è vinta Calma calma Non è vinta Finchè non è vinta Non guardate tutti in un punto Io sto guardando qua sulla montagna Alla stai l'hangar Sento passi Ok allora vengo pure io Vado Eeeh raga io ce le sto attendo E' fatelo uscire Fatelo uscire Fatelo uscire Craccato Fatelo uscire Fatelo uscire Fatelo uscire Fatelo uscire Fatelo uscire Ragazzi facciamoci la finale Facciamoci la finale Eh ma devi rilanciargli l'assordente Oh non fate cacate Ragazzi non fate cacate Ok no niente Dai 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 Sei fermo Sei fermo Sei fermo Sei fermo Sei fermo Sei fermo Faglielo fare a Zizu questo 3 contro 1 Faglielo fare a Zizu Faglielo fare a Zizu Non ti sporgere Fa l'uscire Ma spai mi è tutto sopra ragazzi Eh Vediamo dove si chiude Ancora 3 contro 1 Ok Cominciamo ad andare Vabbè raga ma questo Devo uscire per forza da là Deve uscire per forza E' certo che deve uscire Fatelo fare a Zizu Ma vaffan c**o sei scaricato il tele Dai che esce dai che esce Zizu Sono lontano raga Dai fatelo fatelo Killatelo Bravi Sì La fiesta Sì Buona la festesima Zizu Mi sono fatto mazzana la figlia per te Bravo Buona la festesima La fiesta Vabbè voi a me scarico il telefono Zuuuuu Come siamo messi Come siamo messi Come siamo messi Come siamo messi Siamo messi Col Juggernaut La gentessima Tenessima Tenessima Grande Foto 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 Video e va il Juggernaut Zizzuzzo Juggernaut Porla il Sietta Muy bonito Grazie a tutto il sogno Grazie amici Grazie ai componenti del team Possiamo andare a vedere la partita Andiamoci a vedere sta partita Grazie, viva il sogno Ciao Ciao Il vino ti dici sono il Juggernaut Rimone Ah che mi diverto Come ti diverti Che lo sapete Beh ragazzi Forza Barsa Forza Barsa Ciao Ciao raga